musica 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 Questa causa di fare salvo. Grazie! Bene, passiamo! Eccolo qua! Bravo! Bravo Salmo! Bravo Salmo! Bravo Salmo! Lega Galaspur categoria over 30 Qui con i microfoni di Gala Sport TV Mattia degli FC Leoni Ciao! Arrivano tre punti importanti questa sera Continua la striscia positiva dei risultati Mantenete la vetta della classifica, siete contenti? Contenti, vittoria dedicata al dirigente Portierone Buffone Andiamo avanti così dai! A livello della partita cosa ne pensi? Avete disputato entrambi innanzitutto un buon gioco Avete avuto però voi la meglio Cosa ha funzionato stasera? È stato tutto perfetto o qualcosa ancora da migliorare? Abbiamo avvocato molto al di sotto delle nostre Potenzialità rispetto a quello che abbiamo fatto vedere finora Però comunque Si è visto che siamo più bravi Comunque se ci impegniamo un po' di più Magari riusciamo a non mettere in pericolo partite come queste Perfetto allora in bocca al lupo per le prossime partite Il percorso è ancora lungo e grazie Ciao Mattia! Ciao! Ciao! Ciao!